In questo momento mi aspetto sicuramente una risposta mentale, una risposta emotiva, mi aspetto di approcciare la partita nella maniera giusta. Poi, per l'amore di Dio, la Virgis è una super squadra, vedremo alla fine che cosa saremo in grado di fare. Però sicuramente uno degli aspetti fondamentali sui quali abbiamo lavorato in settimana è un certo tipo di atteggiamento, lì mi aspetto qualcosa. Le scelte sono fatte in base a determinati ragionamenti, che sono determinati ragionamenti giorno per giorno. Quindi in questo momento stiamo pensando a diverse cose, ma non necessariamente le faremo. Vedremo, in questo momento è troppo presto per pensare a quello che sarà il quintetto di domani sera. A scuola fondamentalmente dove lo metti fa bene, quindi sotto quel punto di vista lì è un'opzione che ci può stare. Vediamo, vediamo, ci sono vari pensieri che stiamo facendo. In questo momento non mi sento di dare una risposta né in un senso né nell'altro, però tutte le opzioni, tutti gli incastri sono validi. Vedremo, vedremo quello che secondo me nella fattispecie ci può servire di più. Penso che sicuramente dovremo fare una partita di aggressività, poi che sia le guardie lunghi. Non ne farei solo una questione di guardie contro guardie, ne farei una questione di squadra contro squadra. Sicuramente abbiamo bisogno di una partita di aggressività, che è poi la risposta che mi aspetto dalla settimana scorsa. Questo è il filone sul quale vorrei che la squadra facesse particolare attenzione, poi tutto il resto ci lavoriamo e vediamo un attimo.